Quando si parla di educazione si deve parlare di tutta la ricchezza della persona umana. Lo ha sottolineato Papa Francesco incontrando alcuni membri della fondazione pontificia Scolas Occurrentes, la rete internazionale di scuole nate in Argentina per volere dell'allora arcivescovo di Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Durante il discorso pronunciato a braccio, più volte il pontefice ha pronunciato la parola armonia, quale pilastro della formazione dei giovani futuro dell'umanità. Ed è proprio attraverso i veicoli quali l'arte, lo sport, la cultura e la musica che questi germogli della società scoprono la dignità dell'amore, contro ogni forma di esclusione politica, economica e culturale. Papa Bergoglio ha inoltre annunciato due singolari appuntamenti. Il 7 maggio un incontro di box tra un cattolico e un musulmano a Las Vegas e il 29 maggio la partita della pace all'Olimpico di Roma. Grazie. 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 Grazie.